Pochissimi minuti soltanto per presentarvi questo panel, io sono Andrea Camorrino, sono il socio e il direttore commerciale di Proforma come legge tra le mie spalle. Proforma è un'agenzia che fa comunicazione, fa comunicazione per società private, fa comunicazione per le istituzioni e in particolar modo conosciuta per la comunicazione che fa per la politica perché è più facile essere conosciuti quando si fa una campagna che viene indovinata. Quindi siamo tra quelli che hanno ricevuto quella mail di cui ha parlato ieri Rosi, chi era qui in sala sa di cosa sto parlando, quando si è inventata questa iniziativa e tra fine agosto e inizio settembre ci chiedeva cosa pensassimo di questa ipotesi un po' bislacca, di metterci insieme qualche decina di noi e passare un pomeriggio a Trieste a parlare delle parole ostili. Quindi soltanto in questa sala siamo 550, i giorni sono diventati due e quindi voi capite che il percorso è stato un percorso lungo, interessante, anche per noi come esperienza è stata davvero molto bella. Abbiamo conosciuto e ci siamo relazionati con persone, abbiamo discusso a volte anche animatamente sull'impronta e su queste giornate. Questo è stato lo spirito con il quale abbiamo costruito questo parole ostili, questa giornata di oggi è una giornata di arrivo ma è anche una giornata di partenza e per questo vi dico subito, perché l'ho appena scoperto, che anche a finite queste due giornate chiunque è invitato a mandare, se vuole, un proprio contributo, una propria idea, un proprio pensiero visto che non tutti riusciremo a parlare, a idee chiocciolaparoliostili.it. In questo modo ognuno potrà contribuire. Infine, voi sapete che ci sono nove panel, non tutti possono partecipare a tutti i panel, anche perché alcuni sono in contemporanea e ci vorrebbe l'ubiquità, è un po' difficile e però si possono avere tutti i video, chi vuole anche dare un contributo, sto facendo già un po' un messaggio promozionale scritto sotto, può avere anche tutti i video e dare una mano a questa che è un'iniziativa che è partita davvero da un gruppo di persone che ci ha approvato. Io mi sono permesso di proporre un taglio ai nostri relatori, voi conoscete quali sono i relatori, li avete visti sul sito e poi li annuncerò uno per uno ognuno di loro salirà qua sul palco e avrà, abbiamo detto, questo massimo di otto minuti. L'idea che abbiamo voluto proporre è la seguente, nel dibattito che si è svolto anche in questi giorni, noi quando abbiamo parlato ad agosto, settembre era soltanto appunto un ragionamento fra alcuni di noi, in questi mesi, in queste settimane invece il dibattito anche pubblico su quello che è late speech, su quelle che sono le parole ostili in rete è diventato un dibattito forte, chiacchierato, si sono create alcune quarantini di pensiero però noi abbiamo voluto immaginare di proporre questo tipo di impostazione. Qual è la responsabilità che ha il giornalismo nei confronti delle parole ostili e cosa può fare per cercare di combattere questo fenomeno? Faccio soltanto un esempio e mi fermo. Noi quando facciamo consulenza politica spesso e volentieri ci troviamo a ragionare, c'è sempre un momento in cui bisogna ragionare su come si presenta il programma di un candidato. Un candidato sindaco in una grande città deve presentare il proprio programma. Costruire il programma è un'impresa abbastanza complessa, si fanno a seconda delle circostanze le commissioni, i gruppi di lavoro, gli esperti, le telefonate, pagine, pagine, pagine che poi bisogna portare a sintesi, insomma è un lavoro laborioso. Sui giornali, nei media spesso leggiamo di come la politica si sia ridotta soltanto ad una battaglia di potere fra leader dove non ci sono più le idee, non c'è più nulla a livello valoriale ed è soltanto una battaglia tra capetti. Ebbene, 9 volte su 10, 99 volte su 100, se nella stessa giornata noi riusciamo a presentare il programma facendo una grande giornata immaginando qual è la comunicazione da tenere, eccetera, 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 nella stessa giornata c'è stato un diverbio, c'è stato un battibecco, c'è stato un paio di twitter fra due leader di partito, voi potete star certi che 99 volte su 100 il giorno dopo i stessi giornali, gli stessi media, il telegiornale che dice che non ci sono più i contenuti darà grandissimo risalto al battibecco che c'è stato fra i due leader e non darà una sola parola sul programma. Un utente che ha per anni assorbito questa dinamica, questo modo di vedere, parlo della politica ma vale per la cronaca, ovviamente, vedete quello che è successo ultimamente anche sui fatti di cronaca e il risalto che c'è stato poi nei media e nei social media, come può poi muoversi quando ha un media a disposizione, quando ha la sua pagina Facebook se questo è quello che ha visto per tanti anni, se questo è quello che ha letto per tanti anni, se queste sono le dinamiche che ha conosciuto. Quindi, questo diciamo è il taglio, l'ipotesi che abbiamo proposto, otto minuti a testa. Alle 13.45 avrà un suo spazio, qui parlerà, ci dirà la sua Enrico Mentana che è qui con noi e che ringraziamo. Per questo motivo, visto che dopo avremo modo di godercelo a lungo, io gli lascerei subito la parola per il primo intervento della giornata. Grazie. Io al settimo minuto richiamo. Ma spero che tu faccia in tempo. Allora, questo serve per le slide, la buona notizia che non ne ho, come primo elemento. Allora, sia ben chiaro, tutto quello che sta succedendo non è una rivolta contro il giornalismo passatista. Quello che sta succedendo è esattamente quello che è sempre successo, ma noi non vedevamo. Nel momento in cui la stampa, intesa come l'informazione scritta, era il tutto, nessuno, se non attraverso le lettere ai giornali, poteva immaginare quale fosse il feedback nella società. Oggi viviamo in una società completamente diversa, in cui però resistono strumenti che sono quelli di cent'anni fa. L'informazione scritta è uguale a cent'anni fa, nelle sue modalità. Fatta un giorno, vai in edicola il giorno dopo. Potete immaginare tutti gli elementi. Solo che adesso, chi si sveglia, si alza, prima di essere pronto a presentarsi davanti all'edicola, ha mille altri modi per avere altre notizie più aggiornate su quelle stesse cose, su quegli stessi argomenti che troverà sui giornali che sono stati chiusi in tipografia dieci ore prima, otto ore prima, sette ore prima. Questo comporta un ulteriore potere percepito da parte del singolo nei confronti di chi fa informazione. Vale anche, allo stesso modo, per la televisione. Ed è stato corroborato dalla crisi, dalla cesura del passaggio di secolo, di millennio, insomma, del passaggio dagli anni precedenti a questi, la pensiamo in modo più semplice, che hanno portato con loro, come sappiamo, la messa in discussione totale di quello che era l'ordine mentale, prima ancora che politico del Novecento. Destra, sinistra, una maggioranza, un'opposizione, un modo di porsi, un codice, un galateo della politica e dello scambio. Tutto questo, come sappiamo, è stato messo in discussione. Voglio dire, un giovane di oggi affronta le parole comunismo, fascismo, eccetera, come noi affrontavamo l'immagine di Cavuro, di Mazzini, ci dicevano qualcosa di polveroso e di passato. Il mondo moderno non contempla, dopo la globalizzazione, la riemersione di vecchi modelli, di ordinamento delle società. Tutto questo, nello stesso frullatore, ci porta contemporaneamente al cospetto di figure ieratiche e di figure di tutt'altro tipo. Cioè, il Papa, da un Papa a questa parte, diciamo in questi termini, la figura del Papa ha un suo profilo su Twitter. Allo stesso modo di XY97, che può bestemmiare dal mattino alla sera sul medesimo social network. Questo è inconcepibile, non per la cosa in sé, questo è ovviamente l'estremo. Ma era inconcepibile per il fatto che contemporaneamente noi abbiamo, nello stesso arengo, la gazzetta ufficiale e il muro del gabinetto maschile dell'autogrill. Gli estremi. Questa è la condizione di fondo davanti alla quale ci troviamo. Allora, il giornalismo, che cosa deve fare? Continuare a fare il giornalismo, certo. Ma sapendo che esso è considerato la malattia. Non viene considerato la malattia da quello del cesso dell'autogrill. Stanotte, ora italiana, il Presidente degli Stati Uniti ha fatto un tweet per dire che i portatori di fake news sono il New York Times, la CBS, la NBC, la ABC, la CNN. Che non offendono il capo della Casa Bianca, ma il popolo americano. Fate l'esempio italiano, francese. Cioè, stiamo parlando quindi della messa in discussione radicale. Sapete benissimo che sono le cose che ha detto l'ultima volta all'inizio di gennaio Grillo per l'insieme della stampa italiana o l'altro giorno rispetto a tre quotidiani che avevano preso forse una cantonata riguardo alla vicenda di Di Maio. Allora, noi ci troviamo in questa condizione di essere percepiti ormai strumentalmente o meno da soggetti forti come da soggetti deboli dei portatori di informazione malata o non più credibile. Quella che per noi è una mala pianta, da dove nasce? Dal passaggio del secolo? Dalle torri gemelle? Che vengono considerate alla stessa stregua per l'informazione di quello che è stato Seraievo per la Prima Guerra Mondiale? Cioè, Gavrilo Princip. È da lì che nasce tutto quello che vi dicono non è vero. È lì che nasce la controfattualità, le teorie alternative e quelle cospirazioniste. È da lì che nasce quel modo di rapportarsi all'informazione ufficiale che è di negazione a prescindere. Bisogna avercelo presente che poi c'è chi lo cavalca strumentalmente e chi ci crede. Ma quelli che ci credono sono tanti. Quelli che possono davvero entrare nel mare magno del web e dire tanto questo e quello per me pari sono, non sono degli sprovveduti. Sono delle persone che, a torto o a ragione, a torto dal mio punto di vista, hanno compiuto un processo logico per sottrazione. Via l'informazione ufficiale, oppure mettiamola alla stessa stregua, come mettere i piloti di Formula 1 insieme a un signore che guida da un mese col foglio rosa, se esiste ancora, in attesa della patente. Perché tanto può vincere lui la gara della corretta informazione. Comunque dell'informazione libera. Perché poi c'è l'altro preconcetto, concetto. Anche qui è difficile perché chi sta dentro, chi sta seduto, guarda sempre con discendenza chi sta fuori. Però la libertà, non ho mai visto un giornalista che dice di non essere libero. Ho visto tanti giornalisti che da fuori non sembravano liberi. E se li vedo io immagino chi ha un preconcetto nei loro confronti. Allora c'è adesso questa situazione molto difficile, cruciale, rispetto alla quale cosa devono fare, a mio avviso, i giornalisti? Non lo so. Quello che ho fatto io, e che consiglio a tutti, è di scendere dalla Torre d'Avorio. La turis e burnea del giornalismo serve a isolare il giornalismo. E' quella bellissima cosa per cui si diventa tutti come il portavoce di Saddam. Ve lo ricordate? Ribattezzato Ali il Comico, che diceva teniamo le posizioni e dietro sullo sfondo si vedono i tank americani che entravano a Baghdad. Ecco, il giornalismo non può dire tutto va bene, abbiamo la situazione in pugno. E' ovvio che non è così, perché c'è un mondo sempre più ampio che comunque vuole discutere. E soprattutto ti mette in discussione se tu stai zitto. Se tu stai nel tuo ridotto, nella tua fortezza a Bastiani, i tartari si fanno sempre di più. E soprattutto non hanno nessun timore nei tuoi confronti, perché tu stai sulla difensiva. E se stai sulla difensiva è perché hai la coda di paglia. Allora bisogna uscire. Bisogna che l'informazione vada nel mare aperto. Per questo che personalmente mi ci sono messo. Uno dice, ma perché sei così fesso ad andare su Facebook? Ci siamo? Sette. Sette. Adesso quest'ultimo minuto sarà pirotecnico. Perché? Per questo. Perché bisogna scendere dalla Torre d'Avorio, confrontarsi, dimostrare che si fanno buone pratiche, che si è concettualmente corretti, che si può sbagliare o avere ragione, ma non esistono modalità alternative all'analisi di chi fa informazione. Tu puoi dire le cose giuste o sbagliate, valutare bene o male un fatto, ma la ricerca del fatto, il racconto del fatto, le modalità con cui si cerca di dare una spiegazione al fatto non possono essere messe in discussione. O comunque le confronti e fai capire come lavori. Ti confronti con chi ha i preconcetti, vai a brutto muso, ma dimostri che non stai lassù. E non stai lassù per finta di essere sussiegoso, non rispondi e quindi non sai cosa rispondere. Devi sempre sapere come rispondere. Ciascun giornalista, tra l'altro, si deve misurare, e finisco, con il futuro che evidentemente è fuori dalle pagine dei giornali. Sappiamo che tra vent'anni il giornalismo scritto non esisterà più. Non esisterà più. Quello televisivo esisterà soltanto per una fascia di popolazione. E come, e concludo, la grandissima tradizione dei negozi di antiquariato. Sono bellissimi, ma tutti i giovani vanno all'Ikea. E quando la generazione che ha cominciato ad andare all'Ikea avrà 40-50 anni e continuerà ad andare all'Ikea, cominceranno a chiudere i negozi di antiquariato come stanno chiudendo le edicole. Noi però ci dobbiamo continuare a essere perché l'informazione deve continuare. Quanto ho fatto? Un 30 secondi in più. Ci si può stare. Grazie. Grazie. Questo mi fa pensare a quel sondaggio della Ipsos che hanno fatto nell'anno scorso in Gran Bretagna, nell'Unione Unita, dove la domanda era quanta fiducia hai in questi soggetti che dicano la verità. e ai primissimi posti c'erano i dottori, gli insegnanti e gli scienziati, i parrucchieri e l'uomo della strada con più del 65%. Ai ultimi posti i politici e i giornalisti. E chiamerei adesso sul palco, ringraziando per il proprio intervento, anche qui sarò drastico, negli 8 minuti chiamerò al set, Daniele Bellasio che è il caporedattore centrale responsabile del sule24.com. Detto bene? Sì. Beh, intanto vi chiedo clemenza perché da giornalista parlare dopo Enrico Mentana sarebbe stato come farmi cantare ieri dopo Gianni Morandi, cioè una cosa improponibile. Peraltro ecco, grazie della clemenza subito dimostrata, peraltro ha detto il succo di quello che volevo dire io quindi potrei salutarvi. Però cercherò di dire le stesse cose magari partendo dal presupposto che era il mio. Tra l'altro per quanto riguarda le parole ostili, per noi giornalisti le parole ostili non sono soltanto le parole di odio sono anche le parole complicate perché creano una distanza quella che ci raccontava prima tra chi ascolta l'informazione e chi la produce. Allora, siccome ho avuto la fortuna di avere anche se per un breve tratto Enrico Mentana direttore di una redazione dove io lavoravo mi ricordo che la prima e forse unica cosa che mi ha detto prima di andare più o meno in diretta in televisione è stata ricordati che in televisione si va non ci si reca magari ci si reca è più giusto ma a volte una parola più corretta crea quella distanza che provoca a mio modo di vedere parte di quell'ostilità che vediamo poi nei sondaggi. L'altra difficoltà che sento in questo momento è che io sto facendo esattamente la cosa che penso la stampa non dovrebbe più fare parlare da un palco e questo è uno dei problemi fondamentali perché nello spettacolo dell'informazione la stampa è stata troppo spesso all'inseguimento della rete e siccome in rete bisogna imporsi ha tentato di imporsi con i classici titoli a chiappa click con le classiche notizie forzate invece avrebbe dovuto fare tutt'altro quando si fa l'esame da giornalista ti insegnano che è bene fare una traccia allora io ho fatto una traccia ve la leggo così gli otto minuti intanto li condenso e poi provo a raccontare alcune parti che in questa traccia ho scritto come fa la stampa a meritarsi quell'anticipo di simpatia di cui parla Ratzinger e che è il grande insegnamento della giornata di ieri di parole ostili cioè quel pregiudizio positivo della persona che ti ascolta piuttosto che quello negativo intanto a mio modo di vedere abbandonando l'ansia da prestazione che come sappiamo anche nelle relazioni più personali e intime è spesso controproducente devo salvarmi io stampa devo salvarmi quindi devo esistere devo sgomitare devo essere pop e come si fa a non essere pop a non avere l'ansia da prestazione che è controproducendo imparando da tre personaggi uno si chiama Bernardo Soares un altro si chiama Alessandro Baronciani e la terza persona si chiama Maria De Filippi allora Bernardo Soares è il protagonista e autore di un libro straordinario il libro che ha cambiato la mia vita si chiama Il libro dell'inquietudine di Ferdinando Pessoa invece Alessandro Baronciani che non conosco non conoscevo finché Francesca Milano anche lei del Sole 24 Ore mi ha raccontato la sua storia ha scritto una storia d'amore a fumetti che si intitola Come svanire completamente e la storia d'amore e questi fumetti sono pezzi di storia messi in una scatola che ti arriva a casa e l'ha venduta con il crowdfunding su internet forse lo rifarà presto a proposito quanti frammenti di informazione per voi sono una storia compiuta quanti pastoni politici capite se non avete letto i precedenti mille pastoni politici provate l'esperimento fate tre giorni senza leggere un pezzo di politica e poi improvvisamente ne leggete uno quelle parole sono ostili Maria De Filippi è Maria De Filippi ci torno nello spettacolo dell'informazione i giornali sono degli attori o degli spettatori a mio modo di vedere devono iniziare a pensare loro stessi come la voce credibile fuori dal campo devono svolgere un servizio senza protagonismo devono raccontare una storia non farla loro imporla meglio scegliere parole e stili per raccontare al meglio e per essere al servizio dei lettori e quale servizio può fare oggi la stampa nella rete in cui tutti vogliono essere protagonisti tutti vogliono imporsi i giornalisti e i giornali possono dunque diventare quello che diceva prima il direttore e mentana come dei motori di ricerca intelligenti dei social network a valore aggiunto del futuro cioè ci vado nel social network ma continuo a fare il mio mestiere di servizio e il servizio è nel rumore della rete dove c'è l'odio le bufale dove tutto quello che ci siamo detti che però a me questa rete continua a stare molto simpatica la stampa deve essere la voce fuori campo che racconta il segnale c'è tanto rumore la stampa vada a prendere questo segnale e lo racconti ma lo racconti non per sé per apparire ma per la persona o le persone a cui si rivolge allora Bernardo Soares è l'autore protagonista di questo libro di Pessoa che più o meno è andata così alla morte di Pessoa si trovano nelle case in una casa di Pessoa tanti appunti sparsi con dei numerini ognuno di questi frammenti se andate a leggere il libro è una storia a sé stante e la cosa straordinaria è che Pessoa non li aveva messi in ordine per cui quando poi è morto Antonio Tabuchi e altri scrittori hanno preso i vari frammenti e li hanno messi in un libro ma ognuno di quei frammenti era una singola storia e quindi è straordinario perché se tu lo prendi nella versione di Tabuchi è una storia se lo prendi nella versione di un altro scrittore è un'altra storia e contiene tantissime altre storie è più o meno quello che dovrebbe fare l'informazione darti un frammento compiuto vicino non ostile non imposto e dopo tu tu autore tu lettore ti fai la storia dell'insieme non te la devo imporre io Alessandro Baronciani ha fatto la stessa cosa ha messo in una scatola tanti frammenti fumetti il biglietto di Amazon il cinema tu ti arriva a casa sta scatola a casa tu la apri ognuno di questi frammenti ti fa costruire una storia però se poi proprio vuoi costruire dall'inizio alla fine la storia d'amore le devi un po' mettere assieme e questa è la stessa cosa di Pessoa fatta diciamo 2.0 perché c'è il crowdfunding che va tanto di moda però ancora più semplice secondo me visto che il titolo del mio piccolo intervento voleva essere lo spettacolo dell'informazione è Maria De Filippi ora Maria De Filippi è un personaggio noto credo che tutti voi la conosciate però fateci caso la sua conduzione come fatta non esiste cioè voi guardate il festival di Sanremo perché c'è Maria De Filippi ma Maria De Filippi a parte baciare tra quattro persone però non era lei che lo faceva attenzione erano gli altri che lo facevano lei era la voce credibile fuori dal campo persino in quelle trasmissioni che tanti di noi giornalisti snob criticano del pomeriggio in realtà lei scompare è un brand fortissimo ha una credibilità enorme vi potrebbe raccontare una storia voi le credete dall'inizio alla fine ma scompare svanisce è questo che la stampa deve ricominciare a fare per non farsi prendere da quest'ansia di audience perché poi non funziona nemmeno economicamente perché ci hanno detto per anni io lavoro al sito quindi ho dietro quella schermata che mi dice quali sono i pezzi che stanno andando meglio e per anni ci hanno detto che bisognava fare tanti click e poi improvvisamente ci hanno detto sapete che c'è per la pubblicità non contano più i click no conta quanto tempo una persona sta sul sito e allora forse bisognerà ricominciare a scrivere bene a raccontare delle storie lunghe e poi ti hanno detto non conta nemmeno più tanto il tempo conta quante volte il lettore torna a leggerti e quindi devi essere credibile devi essere fedele devi fare affezionare che è l'esatto opposto dell'ostilità la persona cui ti rivolgi a te e questa questo insegnamento pop di Maria De Filippi è anche visto che si parla tanto di brand journalism per essere brand journalist per affermare il proprio brand istituzionale di credibilità non vuol dire essere protagonisti vuol dire essere utili dando un buon servizio e raccontando delle buone storie facendo quello che ora mi appresto a fare scendendo dal palco incredibile grazie non mi hai dato la soddisfazione di dire un minuto questo è l'ultimo compito che mi è rimasto a me dire un minuto ogni tanto e invece niente va bene grazie diamo voce a Barbara Carfagna che è giornalista della RAI conduttrice del Tg1 buongiorno il moderatore ci ha chiesto oltre alla domanda che insomma vi ha fatto presente all'inizio anche di parlare un po' attraverso la nostra esperienza personale io francamente a un certo punto cinque anni fa ho lasciato la cronaca in senso proprio la redazione cronaca e ho cominciato a buttarmi negli approfondimenti restando comunque a telegiornale come conduttrice e a provare un pochino ad hackerare il sistema nel senso giustamente Mentana ha detto la televisione tra un po' la guadrerà soltanto una fascia di persone il tentativo che in parte sta riuscendo visto che l'ultimo speciale due settimane fa ha fatto l'11.40 di Shared era uno speciale filosofico barra politico quindi su RAI 1 è quello di portare invece con la possibilità che ha soltanto hanno poche testate cioè la RAI il TG1 eccetera di portare un pubblico diverso che non guarda la televisione a guardare la televisione perché ci sono dei contenuti che gli interessano che tu nella fattispecie io puoi prendere da ambienti a cui difficilmente c'è accesso attraverso la rete per esempio nell'ultimo speciale sono andata a Singapore a vedere come funziona il governo dell'algoritmo loro hanno fatto il GovTech che è un governo tecnologico dentro il governo il presidente governa con questa struttura che produce algoritmi governativi e quindi questo ci dava la possibilità di raccontare il nostro futuro di cittadini di un ambiente connesso partirò un pochino dall'inizio cercherò di essere brevissima però se non faccio questa premessa non si capisce bene un po' l'idea anche di questo tipo di giornalismo che è un giornalismo della complessità cioè che tende a raccontare a chi non ha né tempo né modo di studiare la complessità a cui stiamo andando incontro per balzi esponenziali quindi richiede tra l'altro una mole di studio pazzesca per cui il cartellino la legge della madia fa ridere perché in realtà io per esempio poi ci allaurai veramente quando torno a casa a studiare tutto quello che trovo e a preparare tutti gli argomenti e selezionare appunto le notizie e le persone da intervistare prima per bene sono tutti ambienti accademici quindi sono di un certo livello noi veniamo in questo ambiente connesso che tutti quanti per usare un nostro hashtag anche di twitter parole ostili cerchiamo un termine per descriverlo il termine esiste l'ha trovato un professore che è il direttore dell'internet institute di oxford che è un italiano si chiama Luciano Floridi e si chiama infosfera che è anche il titolo di questa piccola rubrica che faccio la mattina del sabato sempre su Rai 1 ha testimonianza che questa cosa si può fare e produce anche ascolto anche se poi si stacca e va sul web infosfera è l'ambiente connesso l'ambiente delle informazioni laddove le informazioni non le produciamo più soltanto noi umani ma le producono anche le macchine sempre di più nel 2020 ci saranno 50 miliardi ogni oggetto connessi noi saremo solo 7 miliardi noi produciamo informazioni l'informazione è anche un bit un atomo una molecola è qualsiasi cosa e questo ce lo insegna Singapore dove tutto è connesso e anche se tu non sei con uno schermo davanti è talmente alto il numero di sensori che è intorno che comunque tu sei in rete i tuoi comportamenti sono registrati i tuoi comportamenti sono in rete e insieme ai comportamenti degli altri abitanti di questo ambiente connesso che è l'infosfera che si chiamano inforg noi siamo inforg cominciamo a creare delle parole che automaticamente frenano le fake news questa è la mia proposta cominciamo a creare delle parole nuove che diciamo per essere utilizzate già presuppongono una certa pulizia di pensiero noi siamo inforg abitanti di un ambiente connesso che si chiama infosfera siamo noi sono gli animali connessi sono gli oggetti connessi siamo tutti organismi informazionali che producono e consumano informazione quindi cominciamo un attimo a creare la nostra visione umano centrica del mondo perché se non facciamo questo non riusciamo a capirlo l'inforg è una sorta di giornalista costante che produce e consuma informazione l'inforg è diciamo così noi siamo umani quindi comunque restiamo umani in un mondo di macchine ultimamente tutti quanti e anche il nostro manifesto diciamo così ne fa un punto fondamentale noi sostanzialmente non siamo più né online né offline non c'è più reale non c'è virtuale quindi siamo on life terzo termine allora noi siamo viviamo in un'infosfera siamo in forg e siamo costantemente on life nel nostro essere on life cambiano completamente le strutture come sappiamo non ci sono le nazioni non ci sono i confini e come mi ha insegnato perché ho avuto questa enorme opportunità per la quale appunto ringrazio la mia testata e in questo ha un senso che ci sia il giornalismo televisivo di questo tipo perché abbiamo possibilità economica di farlo è anche una grande responsabilità ho girato parecchio ultimamente in tutto il mondo il presidente del Weizmann Institute di Israele che è uno dei centri tecnologici più avanzati tre anni fa fece una lezione a me ad altri giornalisti spiegando che in quanto in forg anche se non uso questo termine noi giornalisti abbiamo delle armi cioè queste armi sono le informazioni e fu il primo a spiegare essendo uno nato vissuto e cresciuto o nonché un ex generale in un testilino di guerra che queste armi possono essere possono generare guerre anche se sono informazioni una guerra può essere generata da un malware che è un'arma informazionale anche quella perché va a distruggere un sistema come informazione sbagliata o infettante alla stessa maniera noi possiamo generare una guerra dando un'informazione sbagliata a Singapore ho capito ancora di più che in realtà essere costantemente connessi e qui vengo alla missione del servizio pubblico ma del giornalismo in generale essere costantemente connessi fa sì che siccome tutti i nostri dati sono per quanto riguarda noi diciamo così conservati e utilizzati da Facebook che sta diventando un continente come abbiamo visto anche Zuckerberg finalmente lo ha dichiarato nel suo manifesto ieri ma a Singapore si vede ancora meglio perché è proprio il governo che lo fa non lascia in mano a Facebook questo ruolo cioè lo fa utilizzando anche i dati di Facebook noi possiamo attraverso i nostri dati essere costantemente guidati ridiretti e orientati proprio a partire da ciò che ci piace a fare cose che mai avremmo fatto prima allora noi diventiamo un po' come nella 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 Bibbia si dice polvere siamo polvere torneremo noi dati siamo dati torneremo informazione siamo informazione torneremo questo tutti allora il momento in cui tu puoi in qualche modo accherare la mia mente a partire da quello che a me piace e qui la Mattella ci sta dando una lezione pazzesca con la Barbie connessa che i bambini fin da piccoli a tre anni questa gli parla cosa ti piace quello mi piace la cucina italiana che lavoro vorresti fare vorrei fare lo scienziato piano piano apprende come Siri e poi la Barbie a una certa età gli dice ma tu volevi fare lo scienziato guarda che ci sono i posti liberi per fare lo zoologo o l'astrofisico e lì indirizza il ragazzino è chiaro che sia un algoritmo positivo e etico costruito in maniera e lo indirizza al bene se no lo indirizza in una maniera che Pol Pot voglio dire ci fa veramente sembra un ingenuo a questo punto cosa è importante nel mondo che noi stiamo costruendo che è fatto in questa maniera è importante come giornalisti primo avere la possibilità di sfruttare l'accesso a delle informazioni complesse e il tempo per poterle organizzare in maniera etica secondo rendere costantemente e veramente ma anche in maniera pedante consapevoli le persone per dargli gli strumenti per dare gli strumenti a loro stessi di capire e di scegliere liberamente sempre il presidente il Weizmann istito a un certo punto perché allora non ne parlava nessuno di questa roba mi disse la politica non è più votare è capire per cosa stai votando il dovere del giornalismo è rendere consapevoli avendo accesso a delle informazioni più avanzate che si possono avere soltanto frequentando e studiando un certo ambiente accademico mondiale dare consapevolezza alle persone per essere liberi di non essere orientati da un sistema di cui non sono consapevoli vengo un'ultimissima proposta e chiudo in Inghilterra non so se avete sentito Wikipedia ha bannato e ha detto che non citerà più il Daily Mail nelle sue voci perché è stato giudicato appunto portatore di notizie false è nato un account che adesso mi sono insegnata il nome per questo ha portato questo come si chiama è Stop Founding Hate potremmo utilizzare forse il nostro account parole ostili per segnalare come fanno loro delle fake news con la paginata e la testata che screditi reputazionalmente la testata che ha dato la notizia falsa volontariamente grazie 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 mille Barbara siamo stati bravi con i tempi tutti quanti fino adesso credo che possiamo cambiare un filo il registro adesso qui ovviamente ognuno parla per il proprio conto per la propria esperienza come giustamente ricordava Barbara era anche una delle richieste che venivano fatte però è evidente che poi dopo diciamo la testata per la quale si scrive un po' diciamo di senso dà anche a una presenza anche se è evidente che ribadisco si parla ognuno per conto proprio e con la propria testa quindi adesso abbiamo due coppie di voci che si susseguiranno la prima sarà composta da Vandamarra che sarà la prima a parlare poi Angela Azzaro che sono giornaliste una del fatto e una del dubbio cioè due giornali che sono uno scusate sono rossissimo quindi sintetizzo in modo brutale quindi mi perdoneranno entrambe una una voce diciamo di un certo tipo di lettura giustizialista delle realtà e l'altra invece esattamente all'opposto di un forte garantismo entrambe queste voci quando vengono portate in rete ma non soltanto in rete anche sulle stesse pagine dei giornali generano discorsi e parole ostili Vandamarra del fatto tra l'altro dico la regia lei dovrebbe avere esattamente le slide fantastico ragazzi che organizzazione buongiorno in realtà erano banalmente tre foto che non so neanche se riuscirò a vediamo così cominciamo subito magari te le possono far scorrere loro no 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 ecco qua guarda ah ok fantastico allora nel senso che io ho accolto l'invito di Andrea a partire dalla mia esperienza personale che è quella di fare la cronista politica e seguire per essere precisi non una cosa qualsiasi ma in generale il governo il potere quindi per un giornale come il fatto quotidiano anche come dire il nemico tra virgolette ovviamente e quindi diciamo io per anni per il fatto quotidiano mi sono occupata di partito democratico di Matteo Renzi con tutte le difficoltà del caso di riuscire a in qualche modo raccontare la politica da un punto di vista che tiene presente sia il fatto che non puoi raccontarla prescindendo dalle manette che vi faccio vedere anche in maniera abbastanza provocatoria nel senso che evidentemente quella è una riltura della realtà molto forte molto tagliata molto precisa che però ha una sua motivazione nel senso che in un paese come l'Italia nel quale la corruzione è endemica non puoi prescindere da questa cosa qui per raccontare appunto i politici del caso o le cose che succedono però nello stesso tempo evidentemente le manette o le inchieste giudiziarie non possono essere tutto devono essere contestualizzate spiegate in qualche modo anche capite e relativizzate in alcuni casi oppure esaltate e quindi inserite dentro un contesto però un contesto che ha un suo motivo nel senso che secondo me l'approccio antipatizzante ostile ha dei limiti evidentemente ma anche l'eccesso è eccessivamente simpatizzante e altri limiti e spesso e volentieri queste due cose entrano in corto circuito tra di loro e il compito del giornalista o del cronista è proprio cercare almeno il mio diciamo il mio intento professionale quotidiano è quello di appunto raccontare la politica quindi raccontare tra virgolette il potere tenendo avendo sempre un approccio che sia comunque critico aggressivo a volte è anche duro ma senza mai mancare di rispetto e soprattutto cercando di incrociare tutte le notizie che arrivano perché poi per uno che fa il cronista politico arriva qualsiasi cosa c'è ogni mezz'ora c'è una versione ogni mezz'ora c'è un taglio ogni mezz'ora c'è una velina ogni mezz'ora c'è un tentativo di influenzarti però il tentativo è quello alla fine di non trattare nessuno meglio degli altri o nessuno meglio degli altri e tra l'altro devo dire facendo questa cosa qui anche noi come giornali come fatto quotidiano abbiamo cominciato a porci un problema ovvero il problema della classe dirigente in questo paese che sembra relativo tangenziale a questa cosa qua però lo è fino a un certo punto nel senso che evidentemente anche saper raccontare le cose in maniera non ostile richiede una classe dirigente una preparazione e un approfondimento teorico delle cose che non è scontato e in questo c'è una frase che io ho trovato illuminante che vi vorrei leggere bisogna essere in grado di separare giudizio politico e giudizi morali non tutti ne sono capaci la politica ha una sua logica di cui fanno parte il compromesso la trattativa l'abbassamento delle speranze allora questa cosa a me l'ha detta Nadia Orbinati che è una sociologa e secondo me però per un diciamo per valutare un un politico è molto importante sapere che il giudizio morale è una cosa ma poi c'è un giudizio politico e quindi in qualche modo anche questo è un cortocircuito ovvero come valuto una persona valuto una persona in base a un giudizio puramente etico oppure c'è un giudizio politico che prescinde o non prescinde del tutto o va parallelamente a quello etico è una domanda poi vediamo se riesco ecco questo è diciamo tra virgolette una riflessione sulla posta verità nel senso che noi parliamo cioè si parla in questo preciso momento della posta verità in rete però possiamo dire che la posta verità è sempre esistita qui siamo ad agosto vertice di Ventotene convocato da Matteo Renzi con i grandi europei quindi François Hollande e Angela Merkel e diciamo per quel che mi riguarda è stata forse una delle esperienze professionali più divertenti degli ultimi mesi perché aveva del comico e scusatemi se sono franca nel senso che a un certo punto per questo vertice la presidenza del Consiglio sequestrò tra virgolette ovviamente una porta aerei con l'equipaggio i marinai i militari 200 giornalisti perché diciamo l'intento finale di quella giornata era esattamente quello che vedete qua ovvero una foto in cui il Presidente del Consiglio era al centro della scena evidentemente gli altri due sembrano pallide comparse anche basta vedere come è vestita Angela Merkel e in qualche modo c'è tutta quella giornata lì doveva arrivare a questo tanto è vero che io mi ricordo perché c'ero che a un certo punto del pomeriggio non si riusciva a cominciare la conferenza stampa perché la nave doveva avere essere messa nella posizione giusta quindi era girate la nave no per favore un po' più in là il tramonto va bene no per favore voi rimanete giù e cose di questo genere per di più c'era un altro problema fondamentale nel senso che quel giorno non funzionava il wifi cioè funzionava a tratti che sembrano a stupidaggine però se la cosa fondamentale della giornata era mandare in diretta questa cosa qui e quindi far sì che tutte le televisioni del mondo o quantomeno quelle europee potessero assistere a questa cosa il fatto che alle 5 e mezzo o no forse erano le 6 ma insomma a due minuti dall'inizio di quella diretta crollò la diretta perché il wifi non funzionava era una cosa veramente grave tanto è vero che io mi ricordo che Renzi alla fine di quella cosa lì disse ragazzi spero che il wifi riparta e noi certo anche noi però tutta questa premessa è per dire che poi in quella situazione anche appunto paradossale e divertente ci doveva essere un vertice il vertice non fu prima della conferenza stampa ma fu dopo la conferenza stampa quindi un giornalista politico che cosa può fare prendere per buona questa foto cioè Matteo Renzi al centro della scena europea che aveva come dire anche dei suoi motivi di essere oppure dire la notizia è solo la foto o quantomeno è soprattutto la foto cioè ci siamo trovati in 200 giornalisti per raccontare questo show allora è chiaro che ci sono due approcci molto diversi però quello che diciamo sto cercando di dire è che in realtà quello che si dice che fanno che diciamo dire che la posta verità o le bufale è una roba che discende dalla rete è vero molto molto fino a un certo punto nel senso che poi si è sempre fatto il compito del giornalista è sempre di stricarsi tra tutti i messaggi che ti arrivano e una sintesi che alla fine non è neanche così scontata quanto tempo ha ancora? ecco vi faccio vedere anche questa perché questo è stato il tormentone dell'estate a un certo punto non so se ve la ricordate questa è la una vignetta uscita sempre sulla prima pagina del fatto questo agosto e che ha fatto moltissimo scalpore anche qui parto da me nel senso che io quando è stata messa in pagina questa vignetta ero in trasferta quindi l'ho vista la mattina dopo l'ho guardata e ho pensato ma diciamo insomma eh ce la poteva invitare non lo so mi sono lasciata questa domanda perché effettivamente ti colpisce dopodiché però durante tutta la giornata c'è stato un bombardamento pazzesco da parte delle bacheche facebook di molti deputati del pd o non solo deputati su twitter sulle agenzie di stampa sui giornali in cui praticamente tutto il giorno era voi del fatto sessisti violenti stupratori come vi siete permessi eccetera eccetera adesso io non arrivo a dire che quella era censura perché mi sembra eccessivo anche questo però sicuramente tra questo messaggio non di grande gusto e di sicuro antipatizzante e il conformismo di tutti quei messaggi poi forse appunto alla fine non so cosa fa peggio non so se fa peggio l'ostilità diciamo di questa vignetta o il tentativo di in qualche modo anacquare il dibattito da parte di tutti gli altri cioè a parte che poi secondo me è anche controproducente ma questo è un altro discorso io avrei finito grazie sei stata negli ottenuti precisissima però il microfono lo devi dare non te lo puoi portare a casa grazie dal fatto al dubbio Angela Azzaro salve a tutti a tutte io siccome amo molto Maria De Filippi canterei però ve lo risparmio invece provo a dire un po' di cose intanto parto proprio da mi dà lo spunto appunto la collega sulla vignetta che abbiamo appena visto lì non si tratta solo di ostilità si chiama maschilismo e misoginia io sinceramente mi sono stancata da giornalista di vederlo e aggiungo anche una cosa qui vado un po' nella sfera forse della politica però insomma anche di questo stiamo parlando è vero che ci sono stati tanti messaggi del PD contro o dei deputati PD o comunque rappresentanti PD contro quella vignetta però è vero anche che io ho visto tanti messaggi di deputati e deputate PD contro l'attacco della raggi da parte di Libero non ho visto invece altrettanti messaggi da parte di Grillo del Movimento 5 Stelle quando sotto attacco sono stati Maria Elena Boschi o la presidente della Camera Boldrini quindi non c'è stata quella reciprocità che ci sarebbe dovuta essere quindi partiamo da qua io dico io sono qua a fare invece proprio un'accusa al giornalismo il giornalismo tutto che anche io rappresento che faccio ogni giorno cioè noi siamo portatori di ostilità noi alimentiamo l'odio sia sulla stampa in televisione poi questa cosa ha una ricaduta immediata sul web cioè siamo persone che abbiamo una grande responsabilità e questa responsabilità evidentemente non la non la non la non la esercitiamo no? anche a dispetto di quelle che sono le regole deontologiche tutti abbiamo fatti i corsi sulla deontologia che cosa è la deontologia rispetto alla dignità della persona queste cose ogni giorno vengono costantemente cancellate allora io parlo in questo caso di processo mediatico cioè ormai è come dire la cosa che ogni giorno i giornali alle televisioni fanno cosa è il processo mediatico è un processo che non avviene più nelle aule di tribunale e che viene non solo proiettato sulle cose che riguardano la giustizia la cronaca giudiziaria ma tutto cioè qualsiasi cosa accada noi dobbiamo trovare il colpevole dobbiamo trovare il capo ispiratorio ci dobbiamo sentire giusti e accusare qualcuno allora veniamo alla stampa i dati che abbiamo a proposito della stampa c'è stata un'indagine dell'osservatorio sulla comunicazione dell'unione camere penali che per sei mesi ha monitorato i giornali allora è venuta fuori una cosa secondo me incredibile intanto la cronaca giudiziaria è diventata quella più pervasiva cioè tutta l'informazione si fa partendo dalla cronaca giudiziaria il 70% delle informazioni che si utilizzano vengono dalle procure cioè noi giornalisti non facciamo più i giornalisti cioè non andiamo più a verificare i fatti a vedere cosa è successo cosa non è successo la procura cioè i PM ci passano le carte le pubblichiamo e quella viene chiamata informazione io non la chiamo informazione è un'altra cosa cioè sono le veline della procura non è informazione allora questa cosa tra l'altro con eccessi ulteriori io sono per la libertà di stampa ma anche per il rispetto degli altri principi costituzionali allora cosa accade accade che molto spesso quegli atti che vengono dati dalle procure e giornali sono coperti da segreto istruttorio e questo è accaduto anche da poco con Virginia e raggio appunto noi continuiamo a difenderla sempre era durante l'interrogatorio cioè lei veniva interrogata veniva a sapere determinate cose in contemporanea due grandi giornali pubblicavano quello che lei veniva ad apprendere il segreto istruttorio lo sapete sicuramente meglio di me non è solo a tutela dell'indagato è a tutela dell'inchiesta che viene fatta cioè parliamo tanto di voler sapere i fatti di voler conoscere le cose e poi noi stessi andiamo a minare cioè la verifica di quella che dovrebbe essere la giustizia allora questo per quanto riguarda la stampa la televisione è una situazione se vogliamo anche più drammatica adesso fatti salvi i casi sicuramente di alcune eccezioni che ci sono e sicuramente la sette non lo dico per piageria per il direttore che era qua ma è una cosa a parte però la maggior parte della televisione è fondata sul processo cioè anche il talent prendiamo i talent nei talent che uno dovrebbe essere si parla di musica di talent è fondato sul modello del processo cioè ci sono i giudici si vota c'è una giuria in parte costituita da esperti in parte popolare che determina il giudizio anche di valore su una persona cioè anche su quello che sai fare vale il processo io tant'è che parlo di macro format cioè se il format sono l'insieme delle regole che determinano la costruzione di un programma ormai il processo ha vampirizzato la televisione cioè la televisione è diventata proprio fondata su quel modello là bisogna giudicare bisogna trovare un colpevole questa cosa che ormai mi sembra abbastanza assodato secondo me ha appunto una ricaduta immediata su come le persone percepiscono la realtà cioè la realtà viene percepita in quel modo là sei convinti che la presunzione di innocenza non esista che sei colpevoli anche solo se ti arriva un avviso di garanzia cioè addirittura in questa inchiesta di cui parlavo prima è chiaro che la sentenza è anticipata al momento dell'arresto tu vieni arrestato sei colpevole a vita non vale che magari vieni assolto vieni no tu sei colpevole questa cosa ha determinato non solo la crisi dello stato di diritto delle principi costituzionali amiamo tanto la costituzione ma poi ce ne freghiamo altamente solo quando bisogna andare a votare poi invece ogni giorno la calpestiamo veramente in maniera incredibile e tra i principi costituzionali ci sono anche quello al giusto processo alla presunzione di innocenza al rispetto della dignità della persona ma se mi sbatti in prima pagina se io non sono ho avuto appena un avviso di garanzia e tu dici che io sono un mostro che sono colpevole dov'è la dignità cioè dov'è il rispetto non ci sono né dignità né rispetto e noi siamo responsabili nel web questa cosa cosa diventa? diventa che io mi sento in dovere anzi come dire mi sento proprio degno di poter giudicare chiunque diventa odio diventa inciviltà diventa barbarie e faccio anche non solo nel web ma nell'appunto giustamente si diceva il reale virtuale il caso di Vasto poi immagino che sto nel caso di Vasto cosa è successo? cioè che una persona non ha creduto nella giustizia ha pensato che lui era in grado molto più dei giudici di stabilire qual era la pena da dare a colui che aveva investito e ucciso la moglie e quindi è andato lì non ha aspettato c'era un rinvio a giudizio non ha aspettato che la giustizia facesse il suo corso non ci crede più pensa che lui è molto più degno dello stato di diritto a fare questo è andato e ha ucciso quella persona questo è gravissimo e noi giornalisti su quello abbiamo una grande responsabilità perché ogni giorno soffiamo sul fuoco e creiamo quel clima di di inciviltà allora io dico noi siamo tutti per andare per chiudere qua siamo tutti responsabili io per prima io uso molto facebook a volte mi rendo conto di sbagliare l'ultimo l'ultima volta dico solo questa cosa qui tengo molto ho scritto un post dopo un giorno quindi ho rispettato la regola ci ho messo un giorno per pensarlo sulla la madre sul ragazzo che si è suicidato perché aveva 10 grammi di hashish ho resistito non ho scritto perché volevo verificare i fatti non credevo volevo vedere veramente come erano andate le cose infatti si è scoperto che era la guardia di finanza ad essere stata chiamata dalla madre e poi però ho scritto un post in cui diceva non mi sento di giudicare la madre non la voglio giudicare però alla fine l'ho giudicata e i post sotto erano di giudizio e io mi sono sentita male non ho più seguito quel post e poi mi sono chiesta ma chi siamo noi per giudicare chi sono io per giudicare grazie grazie questa prima coppia mi pare che abbia funzionato bene io vi ricordo che uno che potete mandare le vostre cioè scrivere le vostre domande alla applicazione cioè sulla pagina che abbiamo dato agli inizi vi hanno spiegato anche come si fa è mezzogiorno e 18 quindi non ce la faremo a fare le domande ma voi continuate a farle e soprattutto ne avevo visto però diciamo anche il tempo può essere utilizzato come ritenete ma ovviamente l'app si è fermata vabbè fa niente no ma si è fermata adesso su di me ce n'era una che era aspettate non so perché devo dirvela perché uno può fare quello che gli pare fa niente ve la dico dopo allora la seconda c'era una domanda meravigliosa che era tipo perché Maria De Filippi non comanda il mondo vorrei sapere chi è che ha scritto una domanda del genere perché vabbè fa niente vabbè comunque complimenti a chi l'ha scritta non gli risponderemo dunque la seconda coppia invece cambiamo completamente il registro io credo che in particolar modo che la politica abbia mutuato non sono io che lo dico insomma l'han detto in tanti abbia mutuato il proprio linguaggio sempre più dal linguaggio calcistico da forse diciamo un imprinting forte era data la famosa discesa in campo di qualche anno addietro ormai ma in generale le curve contrapposte il fallo che per una parte sarà sempre soltanto rigore per l'altra non sarà mai rigore l'unica cosa la quale si conviene tutti è che l'arbitro è cornuto e nella fattispecie appunto che i politici sono corrotti questo diciamo lo si può sentire dappertutto ma poi su ogni singola verità ci sono le curve che si contrappongono e allora la prossima coppia è composta da Massimiliano Gallo che è il direttore del napolista.it e da Angela Mauro che invece è giornalista per l'Huffington Post per un motivo preciso che mi divertiva come diciamo come gioco come divertissimo ovvero sia prendete il calciomercato il calciomercato non so chi di voi lo segue poi appunto sui siti oggi è meraviglioso poterli seguire perché ci si può dilettare dalla mattina alla sera negli acquisti più straordinari io sono un tifoso del Napoli e appunto si può sapere dal cugino del nipote dello zio del barbiere che ci sta chi ha comprato già casa in un determinato quartiere quindi quel giocatore sta certamente venendo a giocare da te tutte panzane non è vero nulla ma è fin quando il calcio è un paio di maniche neanche nella politica spesso e volentieri mi è capitato per il mestiere che faccio di stare in una stanza vedere quello che succede seguire le dinamiche in corso e o la sera al telegiornale o il giorno dopo sui giornali leggere ricostruzioni che hanno come fondamento zero zero cioè quello che viene raccontato non è davvero niente qualche volta capita che c'è un fondamento di verità e su quello viene costruito e poi è anche vero ovviamente che tante volte invece c'è scritto la verità il napolista è un'esperienza un po' particolare a Napoli ha una sua contronarrazione rispetto anche a una certa oleografia partenopea calcistico partenopea e si definisce giornale di cultura politico-calcistica giusto? Massimiliano Gallo direttore del napolista.it Buongiorno a tutti poi ci arriviamo cominciamo col dire che il napolista non si occupa di calciomercato però poi ci arriveremo vorrei partire da una domanda che mi pose la mia professoressa di italiano a scuola alle superiori mi disse ma qual è la differenza tra l'umanesimo italiano e l'umanesimo latino? domanda che mi è rimasta molto impresso perché evidentemente io non seppi rispondere e lei mi disse guarda la differenza è molto semplice l'umanesimo italiano scrivevano in italiano l'umanesimo latino scrivevano in latino e il giornalismo è più o meno è la stessa cosa cioè il giornalismo è carta stampata va sulla carta stampata il giornalismo televisivo va in tv il giornalismo del web va su internet cioè non c'è alcuna differenza io ho lavorato a lungo al riformista e adesso poi ci torno perciò poi fondammo il napolista poi sono fondato l'inchiesta con altri miei colleghi e io all'inchiesta impazzivo quando vedevo sui giornali di carta stampata il popolo del web ma esiste un popolo della carta stampata cioè perché il popolo del web che cos'è cioè qual è la caratteristica che cos'ha il popolo del web di diverso dal popolo della carta stampata fatto questa premessa spiego che cos'è il napolista nel 2010 noi eravamo al riformista tante persone tra cui io e Fabrizio Desposito che è un collega del fatto quotidiano collega di Vandamarra malati di calcio andavamo anche perché poi quando si è di una città noi di Napoli vivi fuori anche se in Roma è vicino a Napoli però questo senso di appartenenza si acuisce e aumenta e andavamo a vedere le trasferte andavamo a vedere le trasferte del Napoli in queste trasferte noi incontravamo sempre i giornalisti napoletani che ci raccontavano tantissimi episodi e noi ogni volta dicevamo scusa ma noi non abbiamo letto niente di questa cosa ma non c'è niente dov'è? perché venivamo da un'esperienza di giornalismo politico in cui fondamentalmente nel giornalismo politico bene o male si scrive di tutto non c'è quella che io posso definire un brutto termine però il giornalismo sportivo il giornalismo calcistico in Italia è un po' omertoso tra virgolette perché si tende a scrivere quello che il lettore vuole ascoltare perché poi vuole leggere il lettore fondamentalmente è fazioso perché il tifoso è fazioso per definizione questi giornalisti ci rispondevano no vabbè ma questo non si può scrivere questo non si può scrivere altrimenti poi la vita diventa troppo complicata vabbè di ritorno da Siena Siena Napoli perché noi eravamo veramente malati quindi andiamo a vedere anche Siena Napoli di ritorno da Napoli io e Fabrizio avemmo l'idea facciamo questo un sito nostro un giornale nostro che parla di Napoli siamo al riformista lo chiamiamo il napolista e così nacque l'idea l'idea è quella di trattare soprattutto di parlare di Napoli perché Napoli è una realtà non diversa però c'è molta autoreferenzialità c'è questo dibattito sull'essere napoletani da Benedetto Croce ma anche da da prima tutto secondo me molto splendidamente condensato da Massimo Troisi in ricomincio da tre no emigrante no perché in Napoli non può viaggiare cioè quel film è fantastico in cui c'è tutto secondo me e noi quindi parliamo di Napoli attraverso il calcio anche se non solo attraverso il calcio però soprattutto attraverso attraverso il calcio e quindi come dire andiamo a intaccare due templi della faziosità uno è il calcio e l'altro è appunto la napoletanità dirò una cosa a proposito del calcio noi siamo per per far capire per un Napoli senza Maradona cioè Maradona io l'ho visto io l'ho visto è arrivato quando avevo 14 anni se n'è andato che ne avevo 21 è stata la mia fidanzata dai 14 ai 21 anni basta cioè mio figlio può anche vivere senza Maradona cioè non è che ogni volta noi ci dobbiamo portare portare questo fardello di Maradona ovunque e quindi immaginate le risposte dei difusi del Napoli cioè noi fondamentalmente siamo un giornale masochista cioè ci andiamo a cercare ce ne andiamo a cercare questo tornando anche a quello che diceva Angela Azzaro effettivamente poi passa anche per provocazione ma in realtà noi la pensiamo proprio così secondo me Maradona è il passato il passato cioè non è che il Real Madrid si porta di Stefano appresso è finita è che è morto poveretto però voglio dire è finita la storia il passato viene va relegato va messo in un angolo scusate che a volte dimentico quindi noi ci troviamo ad essere caratterizzati da questa ragione sociale che è faziosa identitaria però in realtà noi attiriamo su di noi l'ostilità e dei tifosi avversari perché poi ci seguono molto soprattutto i giuventini che sono un popolo a parte che andrebbero studiati antropologicamente e anche dei tifosi del Napoli infatti noi per i tifosi del Napoli siamo fondamentalmente dei traditori perché noi non cerchiamo di non a noi danno fastidio tutti i luoghi comuni su Napoli faccio un esempio avete mai fatto caso ai servizi che fanno a Napoli quando si giocano le partite cioè non intervistano mai un napoletano che parli in italiano ma vi assicuro che esistono cioè a Napoli ci sono le scuole c'è l'acqua corrente è una roba pazzesca cioè non si capisce perché è una roba è veramente pazzesca questa cosa non si riesce a capire perché e quindi sembra che noi andiamo tutti quanti con il trick a ballack con la chitarra con il mandolino allo stadio allo stadio non ti fanno entrare nemmeno l'ombrello figuriamoci se ti fanno entrare con il mandolino ma poi ad esempio a me piacerebbe suonare il mandolino ma non lo so suonare ma detto così non è che a Napoli ci svegliamo non è che mangiamo gli spaghetti con le mani vabbè ma comunque il questa interazione con stare questo giornale non sarebbe la stessa cosa se non stesse sul web perché il web ti dà la possibilità di avere questa interazione immediata è vero che a volte noi abbiamo avuto dei momenti veramente difficili a Napoli c'è stato un allenatore si chiama Benitez che ha detto una cosa clamorosa a Napoli ha detto voi non dovete sempre sentirvi diversi dagli altri cioè lo hanno odiato come nessun altro perché lui è andato proprio a intaccare l'essenza di questo essere napoletano e noi difendevamo Benitez ovviamente da masochisti puri e a volte spesso quando scrivevamo degli articoli io avevo la stessa reazione di Angela Maur cioè io non andavo a leggere i commenti facevo così perché effettivamente azzaro scusami azzaro scusami perché avevo veramente paura in questo però devo dire che è un odio che il web riflette cioè un'ostilità che il web riflette ma non è che l'ha creato il web e dopo anni io sono giunto a una conclusione poiché tante persone seguono internet tante persone leggono quando si incontrano quelli che vengono definiti troll secondo me sono dei veri proprio stalker diciamo il troll sono stalker fondamentalmente basta eliminarli cioè basta depotenziarli basta cancellarli ci sono tantissime persone che leggono e non hanno il coraggio di interagire non hanno il coraggio di commentare che poi secondo me è il sale di internet perché poi vengono aggrediti e queste persone vanno tutelate vi assicuro che è la stragrande maggioranza cioè i commenti commentano 30 persone e un pezzo letto da 5.000 persone quindi parliamo di una cifra irrisoria e queste persone secondo me vanno tutelate ed infatti spesso dai commenti del nostro sito del napolista emergono delle storie e dei punti di vista molto interessanti dai commenti sono nate delle collaborazioni con tantissimi tifosi del Napoli che come dire vivono fuori no un'ultima cosa volevo dire a proposito perché noi non ci occupiamo solamente di calcio soprattutto di calcio ma non solo siamo rimasti molto impressionati alle ultime elezioni comunali a Napoli abbiamo scritto un pezzo sulle elezioni abbiamo fatto l'analisi del voto perché poi abbiamo fatto anche i giorni sono stato un giornalista politico non solo io ma in Italia se ti occupi di calcio pare che non puoi fare più niente vabbè sei di serie B perché tutti quanti guardano il calcio ma se tu poi dici che ti occupi di calcio sei considerato una persona di serie B questo non si capisce perché facemmo questa analisi del voto perché noi non ti favamo né per De Magistris né per la valente non ce ne fregava assolutamente niente e il più bei commenti che abbiamo ricevuto è dovevamo leggere un sito calcistico per trovare un'analisi politica degna di questo nome grazie in effetti eri tra due Angele tu tocca a Luffington Post o meglio ad Angela Mauro grazie grazie a voi grazie a tutti dunque io inizio da questo però lo leggo a salti non vi spaventate perché il paragrafo è abbastanza lungo la grande marcia della distruzione intellettuale proseguirà tutto sarà negato tutto diventerà un credo noi ci ritroveremo a difendere non solo le incredibili virtù e l'incredibile sensatezza della vita umana ma qualcosa di ancora più incredibile questo immenso impossibile universo che ci fissa in volto combatteremo per i prodigi visibili come se fossero invisibili ora l'ho letto a salti ma vi inviterei ad andarlo ad indagare questo pezzo perché non è non so magari qualcuno sicuramente di voi l'ha riconosciuto ma è uno scritto del 1905 è Chesterton dagli eretici che secondo me aveva previsto benissimo quello che sta succedendo oggi quando si parla appunto di post verità di fake news di bufale di gente di potere e non che combatte su internet questa nuova piattaforma che all'epoca di Chesterton evidentemente non esisteva per affermare ognuno la sua post verità eravamo diciamo all'inizio del novecento ed è dal passato che io voglio parlare per poi iniziare per poi parlarmi del mio lavoro presente al Luffington Post il titolo come vedete la post verità ha ucciso retroscena io penso di no retroscena si parla di retroscena politico di analisi politica cioè la roba di cui io purtroppo o per fortuna mi occupo ogni giorno e che secondo me pur nel discredito diciamo generale di cui parlava Mentana all'inizio e con cui concordo pienamente è una cosa che ancora forse si può fare e penso che noi a Luffington più o meno abbiamo dimostrato che è possibile anche avere un pubblico facendolo oggigiorno ho iniziato da questo perché appunto volevo iniziare dal passato questo è una roba manifesto della Repubblica di Salò praticamente secondo me è una delle parla appunto di deportazione di bimbi italiani nell'URSS avrete sicuramente capito si riferisce alla propaganda politica che nacque dopo che il Corriere la domenica del Corriere nel 1944 pubblicò la notizia falsa dei comunisti che mangiano i bambini forse diciamo l'esempio di post verità più famoso comunque di grandissimo successo visto che è andato avanti fino ai nostri giorni viene usato anche oggi nel dibattito politico eppure allora non c'era internet questo sempre per dire che comunque un giornalista che si occupa di politica ha a che fare con diciamo più o meno gli stessi ostacoli con cui si trovava a dover combattere in passato quando il mezzo le piattaforme erano diverse certo direte voi il mezzo fa la differenza diventa virale è più pericoloso ci sono molte più insidie soprattutto il feedback è molto più immediato e per noi che stiamo su internet chiaramente appunto lo vediamo ogni giorno volevo parlare come aveva chiesto Andrea di infatti mi trovo quasi a confutare la tua diciamo introduzione iniziale di quello che faccio io io che faccio faccio il retroscena politico mi occupo di centrosinistra di governo di istituzioni talvolta anche di Quirinale e ci sono delle diciamo appunto delle insidie delle trappole da cui un giornalista deve ben guardarsi per cercare magari non ci si riesce magari è perfettibile quello che volete di fare il lavoro suo in maniera più o meno onesta in un tempo lo dicevo prima in cui evidentemente il lavoro del giornalista politico è molto disprezzato perché perché secondo me c'è anche una responsabilità di categoria molto spesso si sono prestati a veline di palazzo senza staccarsi per niente dal potere comunque andiamo avanti prima regola secondo me lontano dal leader nel senso che il leader spesso è soprattutto quando ti dà informazioni direttamente è come una lampada che ti può se ti avvicini troppo ti può bruciare la verità o quella che tu pensi possa essere la verità cioè quella che in politica ha più senso logico la politica alla fine è un po' come la matematica due più due deve fare quattro quindi ti trovi a dover fare un lavoro costante di incrocio delle fonti cervellotico stancante sfibrante che il cervello ogni giorno sta a pensare sempre lì per cercare di trovare un senso nelle dichiarazioni varie dei politici non puoi fermarti a quello ecco perché penso che il retroscena sia importante perché ti racconta cosa c'è dietro alla scena per esempio ora che abbiamo stabilito che non c'è alcun pericolo di deriva autoritaria il problema è che siamo entrati in una società della post verità nei talk show non esiste la verifica reale dei fatti e chiunque può dire qualunque cosa questo è Matteo Renzi 2 ottobre 2016 alla scuola di formazione del PD per dire che nessun leader è esente dall'accusa nei confronti della stampa nei confronti di come vengono fatti i talk show e non è detto assolutamente che abbia torto ad ogni modo io insisto che c'è ancora una possibilità di fare questo lavoro per bene seconda regola lontani dal leader seconda regola ecco non me ne vorrà Francesco Nicodemo che so che è uno dei relatori di questo convegno però ho scelto un suo titolo che lavora con Renzi per dimostrare che poi addirittura certe volte per molti il tema della post verità diventa quasi un brand diventa un brand poi un argomento di cui parlare un trending topic sempre col fine di affermare la propria post verità ognuno la propria cioè non c'è solo Trump che chiaramente dice cose ben più gravi dice cose razziste poi le fa diciamo comunque come è annunciato come ha dimostrato con il Muslim Ban ma ci sono anche altre dichiarazioni che comunque in qualche modo vanno indagate è sempre quella la regola sempre il dubbio sempre la ricerca possibilmente far checking forse il pericolo maggiore rispetto a questo compito che noi dobbiamo assolvere in qualche modo dobbiamo fare non vorrei dare l'impressione di essere troppo buonista è difficile chiaramente e dicevo l'ostacolo maggiore è forse il tempo perché molto spesso uno non ce l'ha il tempo di indagare però ecco guardarsi da questo riflettere sul fatto che spesso post verità diventa il brand diventa la bandiera da sventolare su internet per dire guardate ve lo racconto io com'è non ve lo dice il giornalista finisce l'intermediazione quindi con la carta stampata oppure con il web oppure con la televisione ve lo dico io ed è così e quindi si segue guardarsi da questo perché secondo me appunto e torno al discorso che facevo prima se si osservano delle regole tipo appunto lontano dal leader cercarsi delle fonti che non ti diano soltanto la propaganda io spesso non sto a perdere tempo con chi mi dà la propaganda e magari anche questo non sto dicendo che sia una cosa positiva può essere anche negativo perché significa che alla fine dei conti insomma non ti tieni buone le persone magari alla fine un'intervista non ti esce perché non non te le coccoli ecco però io penso che sia importante fare così sia importante non perdere tempo dietro a chi ti dà la propaganda e seguire invece le fonti sceglierle in maniera diciamo opportuna le fonti laiche che ti danno insomma qualcosa di più sostanziale che ti possano spiegare che la politica due più due fa quattro quando è sensata tu le stai ad ascoltare e da lì magari puoi trarre un filo che può portarti portarti alla alla verità o a quella che pensi possa essere la verità perché appunto io ho preso questa frase di Oriana Fallaci che penso sia ancora attuale oggi ogni persona libera ogni giornalista libero deve essere pronto a riconoscere la verità ovunque essa sia e se non lo fa è nell'ordine un imbecille un disonesto oppure un fanatico io penso che questa sia una massima molto valida anche nei giorni nei nostri giorni ecco noi su Luffington abbiamo cercato di portare sul web quello che prima veniva parlo per la politica poi ci sono tante altre sezioni quello che prima veniva fatto dai giornali e cioè appunto il retroscena il racconto non solo la notizia ma quello che trova il commento eccetera eccetera direi che a giudicare dai numeri l'esperimento sta andando bene forse perché l'Italia è un paese particolarmente interessato alla politica anche su questo bisogna fare i conti e non è vero come dicevi tu che poi alla fine soltanto la battuta il tweet fa click non è assolutamente vero perché per esempio mi ricordo un dibattito sui contenuti prima del referendum no triv sul petrolio ha incassato un sacco di click eppure era un dibattito abbastanza difficile su quesiti referendari il dibattito sul referendum forse costituzionale un po' meno diciamo nel merito dei contenuti questo te lo concedo ma su altri di meno ecco sì concludo il rischio la parte più difficile di tutto questo lavoro cioè nel momento in cui pensi di essere arrivato più o meno ad una tua verità quotidiana che poi chiaramente il giorno dopo può scadere è quella di venderla bene cioè di non cadere nella trappola di imbellettarla per venderla e per fare click però appunto seguendo queste regole cercando di usare anche memoria storica per diciamo di svelare evidente eventuali trappole di un leader secondo me si può si può riuscire si può riuscire a fare numeri si può riuscire anche a creare dibattito e anche a dimostrare quello che diceva Groucho Marx questi sono i miei principi e se non vi piacciono ne ho degli altri per dire della volatilità dei pensieri politici grazie 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 Angela adesso non possiamo aprire il dibattito perché non sarebbe nemmeno giusto però io capisco quello che tu dici ma da operatore della comunicazione in un altro ambito rispetto al tuo e qua in mezzo tra l'altro so che ci sono tantissimi giornalisti quindi diciamo l'affermazione può avere anche un senso ti assicuro che in certe circostanze la sensazione che il politico scrive il tweet che interessa il giornalista che riparla al politico che riparla al giornalista cioè che sia tutto un ceto molto piccolo che si parla che si parla dentro la bolla di twitter e ritiene di star parlando al mondo è un tema che esiste tanto è vero che appunto i parrucchieri sono molto più creduti dei politici e dei giornalisti stessi vabbè però appunto non si può fare il dibattito peccato e del prossimo intervento io conosco il titolo conosco il titolo che lo leggo esattamente come mi è arrivato è così MT 5.46 adesso insieme scopriremo cosa ci deve dire il responsabile della comunicazione dell'Arcidiocesi di Milano nonché presidente fondazione ente dello spettacolo Don Davide Milani grazie io accolgo l'invito di Andrea di parlare di me di parlare di qualcosa di personale quindi vi parlerò della mia gastrite questo attacco di gastrite che ho avuto questa notte non so bene il motivo penso che i principali indiziate siano le tartine che abbiamo consumato all'ottimo locale di ieri sera se non è le stesse che mangiava Joyce capiamo anche il perché di qualche incipito un po' pesante se sono quelle avanzate da lui lo comprendiamo ancora di più poi altra causa forse qualche ragionamento che abbiamo sentito ieri insieme a tante belle parole insieme a tante belle discussioni qualche ragionamento così un po' un po' troppo problematico che ci portava forse a odiare gli odiatori a usare parole ostili contro chi usa parole ostili mentre qualcuno ieri ci ha perlomeno a me ha colpito molto ci ha portato delle parole molto intelligenti molto cariche di speranza come ad esempio Gianni Morandi che invidiamo tutti colui che era vecchio quando ero giovane io e che adesso che sono un po' più vecchio lui è diventato giovane e allora in questo attacco di gastrite facciamola breve che ho avuto questa notte che mi ha portato all'insonnia e mi è venuta in mente un'immagine che avevo studiato all'inizio del seminario quando iniziano i corsi di storia della chiesa più che l'immagine una frase Alexamenos sebete zeos zeon scusate era un graffito trovato nel 1857 sul palatino a Roma e questo graffito rappresentava una croce sopra la croce un uomo con la testa d'asino e davanti a questa crocifissione c'era una persona probabilmente un ragazzo probabilmente questo Alexamenos intento ad adorare questa divinità ovviamente alcune ricerche dicono che è un graffito che risale addirittura all'85 dopo Cristo quindi era un caso di bullismo ai danni di un ragazzo che era diventato cristiano e pregava il suo dio quindi mi sono detto come diceva anche il direttore Mentana prima niente di nuovo sotto il sole purtroppo magari come già è stato detto e ci diciamo tutti quel graffito lo vedevano in 50 in 100 a parte che adesso lo vediamo un po' tutti adesso un atto di bullismo in rete è visto da milioni di persone e amplificando i danni che ciascuno provoca poi non riuscendo a dormire compulsando l'iPad aspettavo come fa chi fa il mio mestiere che si occupa di comunicazione le pagine dei giornali le edizioni online dei giornali e arriva finalmente un quotidiano nazionale che ha una corposa sezione a proposito di Milano e ritrovo un'iniziativa di cui occupandomi di comunicazione della chiesa ambrosiana sono stato protagonista non vi parlerò tanto di quello che ho fatto io ma di un meccanismo molto più grande di me di cui sono rimasto in parte imprigionato in parte sospeso a Milano tempo fa sono cominciato una serie di celebrazioni per i 90 anni della nascita di Martino un grandissimo cardinale quello che mi ha ordinato prete che ha lasciato una traccia indelebile nella fede italiana della chiesa nella cultura e prima c'è stata la presentazione del film di Olmi che si è mangiata tutta la visibilità possibile poi arrivavamo noi come diocesi e ci trovavamo nella necessità di far vedere un'iniziativa ovvero la dedicazione del museo diocesano di Milano alla figura del cardinale Martini in sostanza una notizia che non si filava nessuno mancavano due giorni all'uscita della notizia alla scusate l'iniziativa preparo il comunicato lo mando ovviamente non succede un bel niente se non che la mattina prima dell'evento mi arriva una foto del direttore del museo tutto indignato e mi dice guarda qua cosa è successo stanotte ci hanno imbrattato la parete del diocesano una parete interna che da sul parco verso Biasforza per chi è di Milano questi writer eccetera eccetera guarda che danno ci hanno fatto e lì ovviamente come stanno pensando tutti quelli che fanno il mio lavoro con sta foto in mano dico la tweeto la lancio chiamo due giornali la facciamo girare attiriamo l'attenzione ecco qua finalmente una bella come uso nel mio linguaggio un bel cavallino da frustrare per far correre e tirassi dietro il carretto pesantissimo di questa notizia della dedicazione al museo diocesano l'ho usata fatto bene o fatto male non lo so l'ho usata in maniera un po' così un po' particolare negando la potenzialità della notizia l'ho mandata a dei giornali di carta dicendo guarda qua cosa succede domani comunque c'è lì il cardinale e ovviamente la notizia che ha preceduto il lancio del museo diocesano ed è diventata comunque una notizia era che il giorno della dedicazione a martini hanno imbrattato il museo si farà ancora l'inaugurazione si chiedeva uno è una cosa contro il cardinale scola si chiedeva un altro è una cosa contro il cardinale martini fatto sta che tutti i giornalisti c'erano e abbiamo guadagnato un notevole spazio mi sentivo non mi sentivo molto bene ecco non come stanotte ma quasi ho fatto bene ho fatto male ho strumentalizzato Martini chissà cosa pensa ho delle credenze anche a proposito del rapporto tra i vivi e i morti e quindi non lo so soprattutto quando è finita la conferenza molto dotta hanno parlato tutti il cardinale scola il presidente del museo il conservatore i giornalisti si avvicinano ne vedo anche una in sala si avvicinano fingono di compiacere i relatori soprattutto il cardinale scola chiedendo ma il rapporto verità la bellezza giustizia ma la citazione del principe mischi nindo stoieschi la bellezza e arrivano la domanda ma cosa diciamo a questi writers che hanno sfigurato il museo diocesano il cardinale gli è un po' scappato alla frizione e dice è sbagliato non va bene hanno fatto un gesto sbagliato c'era già il titolo punto fine però da uomo di comunicazione il cardinale angelo scola ha detto una frase poi dicendo però ci sono molti esempi positivi di ragazzi writers che con la loro arte sanno rendere bello a milano ci sono le istituzioni che mettono a disposizione uno spazio della città eccetera eccetera i titoli dei siti dei giornali del pomeriggio non erano su questo ragionamento della bravura dei writers di rendere bello alcune parti di milano era scola due punti condanna scumunica attacca e cose di questo tipo e stamattina apro appunto il giornale su ipad per placare un po' l'attacco di gastrite e vedo una cosa bellissima su un giornale di carta che riprende una foto che è andata sui social quindi fuori e dentro da tutte queste vicende e cosa dice l'apertura delle cronache milanesi di questo giornale dice che in un quartiere di milano un quartiere che sta in periferia il casoretto sopra la stazione centrale un consigliere di zona con il prete con un comitato hanno deciso di prendere i writers della zona i ragazzi e di andare a ripulire il muro di una piscina recentemente dedicato a un eroe sociale imbrattato dai writers perché l'hanno fatto perché hanno sentito il cardinale dire questa cosa e soprattutto perché hanno letto nelle cronache di un giornalista un passaggio che oltre alla condanna riferiva che comunque ci sono dei giovani bravi anche i writers che sanno fare questo perché vi ho raccontato questa storia e ho quasi finito perché in fin dei conti quello che conta è il nostro atteggiamento nelle cose il giusto e lo sbagliato non so dove sia nel modo di comunicare per altre cose penso di avere l'idea abbastanza chiare non lo so se ho fatto bene o fatto male a mettere nel circolo quell'informazione però sono convinto di una cosa che nel nostro lavoro nel mio lavoro di comunicatore nel nostro lavoro di giornalisti abbiamo bisogno di accompagnare le notizie di accompagnare le nostre azioni non semplicemente di tirare il sasso nello stagno e poi fare un passo indietro e godere per il casinone che esce dalle nostre provocazioni sta a noi perché poi alla lunga inquiniamo l'aria che respiriamo agitiamo l'acqua in cui dobbiamo navigare dobbiamo muoverci in questa vicenda che vi ho raccontato se la ripercorrete ci sono tantissimi atti di responsabilità dei giornalisti di chi ha parlato di chi ha letto di chi si è preso la briga di dare un corso ecco questo questo cambia le cose se appunto attacchiamo gli attaccanti odiamo gli odiatori non ne usciamo più alziamo semplicemente il muro il muro dello scontro ecco perché allora mi sono permesso di dire il titolo di dare come indicazione il titolo che vi è stato citato non è la targa di una macchina di capodistria quella che è stata citata come titolo è una frase del Vangelo che dice se amate solo quelli che vi amano che vantaggio ne avrete cioè se stiamo solo con i nostri parliamo solamente i nostri se non ci preoccupiamo anche degli altri se non ci perdiamo a cuore la responsabilità che ciascuno di noi ha non perché il giornalista ha un dovere etico è il paladino della giustizia no per carità ognuno faccia il paladino a casa sua ma come cittadini come uomini come donne abbiamo responsabilità esercitiamola grazie grazie abbiamo gli ultimi due interventi che vanno a chiudere la giornata e temo terribilmente per le nostre domande mi pare molto interessante come coppia come coppia di chiusura e la prima persona che chiedo che chiamo a salire sul palco è Anna Masera che è caporedattore e public editor della stampa allora io ho un vabbè ho ascoltato tutti ovviamente ho partecipato attivamente ai vostri ai vostri racconti perché li ho molto condivisi io ho un pubblico privilegiato perché ho un lavoro privilegiato perché mi occupo di ascoltare e quindi ascolto tutto il giorno quello che i lettori e il pubblico dice sui giornali quindi mi tocca beccarmi tutto il fango dal pubblico nel mio lavoro di public editor che è la garante dei lettori un lavoro che in Italia non c'è e quindi siamo l'unico giornale ad averlo sono molto grata al mio giornale la stampa che ha accettato questa sfida di sperimentare questo lavoro che non è facile e non so neanche quanto la stampa lo apprezzi perché in realtà è una battaglia quotidiana per valutare sempre come gestirlo un lavoro che stiamo inventandoci insieme e nello stesso tempo faccio la direttrice di un master in giornalismo quindi ho dei ragazzi giovani che vogliono diventare giornalisti sono praticanti giornalisti e stanno cercando di imparare questo mestiere e sono un pubblico attento che critica il giornalismo ma nello stesso tempo aspira a farlo e quindi cerca di capire come farlo meglio e come rispondere alle critiche che arrivano dal pubblico e le critiche sono tantissime ho preso un po' di appunti però volevo dirvi che di là nell'altro panel che è sui giovani digitali Giovanni Ziccardi ha appena detto che l'odio è una valuta online è l'esempio cattivo dalla politica perché l'odio che vediamo in politica è evidente quindi più si urla e più si parla e si usano parole di odio più si ha visibilità e quindi si ottiene l'attenzione degli elettori presunti e dall'altra parte la televisione quindi i media tradizionali ma soprattutto la televisione perché i talk show è anche fuori dal giornalismo quindi i talk show piuttosto che i talent fatti tutti di giudizio come è stato detto prima quindi diciamo che anche nei giornali anche noi facciamo questo tentativo sempre di avere visibilità ed è stata molto criticata e sono d'accordissimo fare gli titoli a chiappa clic io ho fatto dei servizi proprio su questo perché la mia rubrica l'ho dedicata a questo problema anche nel nostro giornale anche alla stampa spessissimo è vero come diceva Daniele Bellasio è vero facciamo titoli per cercare di accapparare lettori che clicchino il sito perché il sito è gratuito e abbiamo bisogno c'è questo loop per cui siamo giornali in crisi che hanno bisogno di tanta audience perché sono praticamente i soldi arrivano dalla pubblicità e quindi per avere pubblicità bisogna avere tanta audience e per avere tanta audience più facciamo clic più facciamo cose polemiche o cose che creano dubbi nei lettori più i lettori si arrabbiano e seguono quella notizia la discutono e stanno online sul nostro contenitore diciamo che sia Facebook che sia Twitter che sia il nostro sito ma tendenzialmente ormai è sui social più che sui siti dei giornali però diamo questi contenuti tra l'altro fuori perché non teniamo questi commenti neanche li gestiamo noi li gestiscono le piattaforme quindi vengono discussi i nostri contenuti sulle piattaforme dei social media dove noi andiamo e regaliamo questi contenuti in cambio di un audience che dovrebbero in teoria conquistare ma anziché conquistarli in realtà vanno lì a discutere e odiarci e odiarci e disaffezionarsi e quindi perdiamo sempre di più credibilità e reputazione e quindi siamo in una crisi di fiducia mai vista nella storia del giornalismo che viaggia parallela ma non è necessariamente causata dal fatto che c'è la crisi nei giornali perché in realtà forse la crisi nei giornali è dovuta anche al fatto non soltanto che esiste internet che ha accapparato il modello di business ma che noi abbiamo perso la credibilità sul campo cioè con i contenuti che noi produciamo quindi la prima cosa secondo me che dovremmo fare è cercare di recuperare questa credibilità con la trasparenza con il dialogo andare fuori lì metterci in campo come diceva Mentana e assolutamente non pensare che quello sia un mondo che non ci spetta non stare sul podio da fuori e guardare il pubblico che si scanna sulle cose che noi diciamo perché sono cose che ci fanno crollare e non ne risorgeremo più cioè quando si perde la reputazione online si è persa e quindi tutti questi secoli la stampa ha appena festeggiato i 150 anni ed è una cosa di grande privilegio di grande prestigio di grande orgoglio che ci ha fatto scattare anche perché in questo periodo dove tutti attaccano il giornalismo guardiamo in America con Trump che praticamente i giornalisti sono veramente trattati malissimo c'è un orgoglio di far parte della categoria del giornalismo perché ci piace l'idea di fare informazioni di cercare la verità e di raccontarla il problema è che dopo 150 anni basta niente per perdere la reputazione avevamo una reputazione di essere un giornale solido forte che raccontava le notizie in maniera laica e poi magari ospitiamo un opinionista a caso che dice delle scemenze dice che lo spacco del vestito di una donna a Sanremo è giusto che ci sia perché in questo modo ammicca gli uomini piuttosto che perché abbiamo ospitato un'opinione di questo genere sul sito della stampa piuttosto che un altro opinionista che dice anzi è sempre la stessa in realtà che dice che la droga leggera porta per forza l'eroina per cui bisogna bandirla e ha fatto tutta una campagna contro la droga leggera mentre ci sono ormai notizie scientifiche che dimostrano che questa cosa non è vera per cui io cerco di difendere il giornale dicendo separiamo i fatti dalle opinioni quelli sono commenti sono opinioni quindi c'è la libertà di espressione è giusto ospitare opinioni diverse sul giornale il giornale ospita opinioni diverse però i giornali possono anche scegliere che opinioni ospitare e magari scegliere di non ospitare le opinioni che dicono che esistono gli UFO piuttosto che dicono che i cerchi nel grano sono una cosa interessante da scoprire chissà cosa sono eccetera quindi nei giornali spesso per fare notizie leggere e per fare audience si tende a ospitare anche cose che non sono notizie dobbiamo fare una scelta di campo io penso che nel giornalismo ci voglia più ecologia e proprio perché i giornali di carta sono in crisi peraltro la mia idea è facciamo meno pagine facciamo giornali più sottili più leggeri però più densi di informazioni utili per cui torniamo alle origini facciamo proprio ci vuole un'ecologia dell'informazione che ci permetta di offrire cose che veramente interessano al pubblico che sono per esempio le notizie sulla disoccupazione giovanile al 40% mi sembra che quelle notizie siano più importanti di marra e raggi tutto il giorno in prima pagina però queste opinioni noi giornalisti ce le abbiamo discutiamo e voi sappiate che nelle riunioni di redazione si discute di questo non è che non se ne discuta è un tema di dibattito importante credo che sia un tema di dibattito credo che anche i giornali i giornalisti ma soprattutto i direttori e ancora di più gli editori dovrebbero farsi carico di questo problema e anche loro lanciare un'iniziativa come questa cioè un'iniziativa come Parole Ostile un'iniziativa per l'ecologia dell'informazione un'iniziativa contro la possibilità e contro le fake news per rimettersi in gioco e essere loro per primi a fare un manifesto ma ci vorrebbe un manifesto dei giornali dei giornalisti del giornalismo italiano in America lo stanno facendo stanno discutendo gli esperti di media stanno discutendo tantissimi giornalisti i direttori dei giornali si mettono in gioco su Twitter tutti i giorni twittano e parlano e difendono la qualità del loro giornalismo e ne vanno orgogliosi e quando sbagliano chiedono scusa bisognerebbe imparare anche noi a farlo io auspico sono molto contenta quando i nostri direttori lo fanno e si mettono in gioco ne ho visto l'hanno fatto diverse volte alcuni direttori però non basta bisognerebbe veramente fare una campagna bisogna che voi lo chiediate e bisogna che anche tra l'altro le istituzioni che stanno dietro il giornalismo italiano perché in Italia c'è questa cosa anomala il mio master in giornalismo come tutti gli 11 master in giornalismo in Italia è dell'ordine dei giornalisti la categoria dell'ordine dei giornalisti che è un'anomalia mondiale perché negli altri paesi non esiste l'ordine dei giornalisti quindi sia giornalisti per altre vie ma dovremmo avere l'orgoglio anche di averlo questo ordine dei giornalisti bisogna che si riformi per davvero e che sostenga questo tipo di ecologia dell'informazione e di etica dell'informazione che ritorni alle basi e che tenga conto e che ci renda c'è la cosiddetta accountability oramai usiamo i termini in inglese ma l'accountability è chiederci conto e chiedere conto ai giornali ai direttori agli editori del giornalismo che fanno tutti i giorni e non richiamarli all'ordine quando il potente di turno il politico di turno fa la denuncia e dice diffamazione perché così sta succedendo che giornalisti dei testati italiani devono andare a difendersi perché i politici li hanno accusati di averli diffamati su quel punto lì penso che invece dovremmo essere orgogliosi e difendere la categoria e difendere il giornalismo perché è importante invece poter continuare a farlo questo controllo della politica anche se sbagliamo cioè se uno sbaglia per la ricerca della verità è uno sbaglio accettabile se lo sbaglio invece è fatto con l'odo perché in realtà si vuole fare propaganda qualcos'altro allora secondo me dovete essere impietosi nei nostri confronti grazie grazie mille Anna e da Anna appunto primo public editor di un giornale italiano passiamo ad un'esperienza nuovissima invece che ci può raccontare Lucia Cappelluzzo che è coordinatrice di BGI e collaboratrice di Bergamo News buongiorno a tutti premetto che sono veramente molto emozionata di prima di tutto di partecipare a questo panel e di chiuderlo di un panel di così alto livello giornalistico e mi inizio a presentarmi mi chiamo Lucia Cappelluzzo e da circa quattro anni collaboro con il giornale online bergamonews.it e da circa un mese ho iniziato a collaborare al neonato giornale di Bergamo News BGI Young che vuole essere appunto un giornale fatto dai giovani per i giovani come si va? qual è? ah ok giusto ok iniziamo bene io stessa sono una giovanissima ho soli 22 anni e ho sempre pensato che la mia giovinezza costituisse un difetto o un difetto incantevole per dirla la Giacomo Casanova e quando la direttrice di Bergamo News mi ha proposto di prendere parte al progetto ho pensato che la mia giovinezza fosse anche un ostacolo per i miei progetti sempre troppo grandi e prematuri in ambito giornalistico ma diciamo che dopo varie riunioni di redazione mi sono tranquillizzata grazie alla fantastica squadra che è la redazione di Bergamo News e grazie anche alla responsabile di BGI Young presso la redazione che con cui lavoro e collaboro la redazione di Bergamo News è già di per sé molto giovane infatti tre redattori su sei non superano i 30 anni ma parlando tra di noi ci siamo resi conto di quanto la visione dei fatti del quotidiano nazionali o anche a livello mondiale cambi drasticamente da un ragazzo di 25-30 anni a un adolescente di 15-16 anni e ci siamo anche resi conto del fatto di quanto ci sia il desiderio da parte dei ragazzi da me stessa dei miei coetanei di avere uno spazio dove poter esprimersi dove poter raccontare le loro visioni del mondo e dove poter raccontare le proprie esperienze quindi con l'intento di dare uno spazio ai ragazzi dove potersi raccontare e esprimere è nato BGI Young è un giornale appunto fatto dai giovani interamente fatto dai giovani per i giovani ed è un giornale anche giovanissimo di nome di fatto perché siamo online da neanche tre settimane quindi è un progetto in continua evoluzione ma posso dirmi già molto felice della squadra che si sta creando a BGI e è una squadra che siamo riusciti a creare andando nelle scuole andando nelle università premetto che la qualifica del nostro giornale è che non sono giovani giornalisti ma semplicemente giovani l'unica qualifica è che devono avere un'età sotto i 30 anni e possono scrivere di tutto appunto abbiamo anche coinvolto i ragazzi del comitato giovani di Bergamo Scienza e Bergamo Scienza è un festival scientifico che anima Bergamo nelle prime settimane di ottobre e a loro ma tutta l'altra squadra volevamo che BGI fosse una baccheca aperta fosse un blog dove poter raccontare le proprie esperienze di vita tra scuola tra lavoro tra amici tra famiglia e voleva anche essere un luogo dove i ragazzi potessero calare nel loro quotidiano gli eventi a livello nazionale e a livello mondiale stiamo anche riuscendo a fare delle interviste doppie quindi di personaggi come Di Pietro qualche giorno fa è stato ospite a redazione è intervistato da giornalisti di Bergamo News e anche da ragazzi di BGIang l'hanno intervistato due ragazzi di 19 anni e sono grandi grandi conquiste quando abbiamo saputo dell'evento di parole ostili noi di Bergamo News ci siamo subito sentiti coinvolti nell'evento perché abbiamo sempre creduto nel fatto che in un mondo pieno come stiamo vedendo di bufale di informazioni false e di cattiverie l'unico modo per sopravvivere da parte di un giornale online è quello di confermare ogni giorno la propria credibilità e la propria qualità all'interno di questa politica di questa mission c'è BGI infatti come BGI come nuovo giornale dei giovani vogliamo offrire uno spazio ai ragazzi i miei coetanei dove poter raccontare sì dove potersi esprimere ma sempre nel rispetto di parole rispettose appunto e di qualità noi giovani siamo sempre siamo spesso accusati di non saperci esprimere è appena uscita la notizia di una lettera di denuncia da parte di insegnanti sociologi che appunto denunciavano l'incapacità da parte dei giovani di articolare il proprio pensiero e noi vogliamo che BGI dia uno spazio ai ragazzi in cui potersi effettivamente esprimere con un pensiero articolato noi vogliamo non vogliamo educare i ragazzi non vogliamo non vogliamo metterci su un piedistallo perché io stessa sono una giovane ho 22 anni come vi ho detto non vogliamo educarli e non vogliamo stigmatizzare o censurare dei comportamenti ma vorremmo cercare di abituarli a mettere nero su bianco il proprio pensiero a esprimere in maniera articolata in maniera articolata ciò che pensano andando quindi al di là del semplice tweet o post che per la brevità e per l'istantaneità imposta dai social network per lo più è intrisa di odio di aggressività e di rabbia è anche uno dei punti del manifesto quello di prendersi il tempo necessario per pensare e quindi di mettere nero su bianco appunto per iscritto quello in cui si crede in quello che si vuole esprimere con questo appunto non voglio dire che noi vogliamo vogliamo spegnere la fiamma dell'impulsività dei giovani che ritengo sia la grande qualità della gioventù ma noi vogliamo che si sfoghi in una produzione appunto di un articolo attento curato con parole rispettose e responsabili cercando quindi di evitare soluzioni di questo di questo genere come vi ho detto Bigi è un giornale nuovissimo appunto siamo là da soli tre settimane ma abbiamo già ricevuto commenti ostili questo era il caso specifico di un articolo scritto da un 17enne che parlava del rapporto droga e scuole diciamo commentando un'inchiesta da parte della polizia locale di Bergamo in cui andava nelle scuole appunto per verificare se ci fosse spaccio o meno e questi sono stati i commenti come potete vedere e noi appunto vorremmo decisamente evitare queste reazioni infatti abbiamo cercato di stimolare questi ragazzi che hanno commentato a rispondere con un articolo ma non ci è arrivata nessuna risposta si sono limitati solamente ai commenti ma come noi ben sappiamo commenti di questo genere generano ancora di più odio aggressività e tralasciando invece un sano dibattito che potrebbe crearsi per iscritto anche con contenuti multimediali che noi siamo un giornale online quindi vogliamo anche questo perché parafrasando Julia Roberts in Pretty Woman è più facile seguire e credere nelle bugie e nelle cattiverie piuttosto che nelle verità quindi la mission il sogno e magari anche l'utopia ai posteri l'ardo a sentenza insomma è quello di ripartire dai giovani nella creazione di un'informazione senza bufale e senza cattiverie con appunto l'utopia di ripartire proprio dai giovani per creare un circolo virtuoso che riesca a ripulire di aggressività il web questo appunto non si sa se riusciremo cliccateci e scopritelo con noi grazie grazie se riusciva allora sono è l'uno e dieci è l'uno e dieci quindi voi mi perdonerete se da organismo monocratico casso il dibattito e spero che non abbiate troppe parole ostili nei miei confronti per questa scelta però se no non riusciamo a dare seguito alla giornata tra l'altro siete tutti quanti bravi quindi non capisco come abbiamo fatto arrivare così tardi ma vi ricordo che possono essere mandati i contributi che poi in qualche modo cerchiamo di utilizzare a idee chiocciaparolostili.it vi ricordo di partecipare al crowdfunding perché questa è un'iniziativa autofinanziata eccetera eccetera e vi voglio lasciare ma voi potete anche alzarvi e andarvi nel frattempo io continuerò a parlare e con la domanda più con la domanda che è stata più votata io vi faccio la domanda e poi la risposta ce la coltiviamo internamente con un percorso interiore la domanda è questa quella che ha avuto più like di tutti siamo ormai abituati a fruire a fruire delle informazioni in maniera gratuita ma il sistema editoriale ha dei costi da sopportare la qualità dell'informazione è stata sorpassata dalla necessità di sensazionalismo e approssimazione per attirare visitatori e click che generano introiti vedete la reale possibilità di invertire questa tendenza e tornare così alle vere notizie? la domanda è consegnata alla sala statevi bene buon pranzo grazie a tutti grazie a tutti